Mi è andata bene, sono riuscita a schivare i loro colpi, tranne uno e ora voglio solo che passi questo momento. Così l'autista CTV di 45 anni, dopo la brutale aggressione subita dai borseggiatori nel bus di linea in cui era di servizio intorno alle 20 a Venezia, in Piazzale Roma, venerdì 18 ottobre. A bordo del bus CTV numero 5, uno come questo che porta all'aeroporto di Tessera. L'autista picchiato a sangue con il manico di un ombrello da un gruppo di 4-5 ragazzini saliti a bordo senza il biglietto, tutti borseggiatori, a colpirlo, quello che faceva il palo, i colpi con il manico dell'ombrello inferti alla fronte vicino all'occhio, rimediando al civile di Venezia 4 punti di sutura dopo essere rimasto sfregiato, rischiando a restarsi colpito addirittura nell'occhio stesso e perdendo una quantità enorme di sangue, come si vede dalla foto scattata dopo il pestaggio. Tanta rabbia, cattiveria e violenza, soltanto perché il dipendente CTV stava sventando il borseggio di uno zaino da parte del complice, dell'aggressore, la vicinanza al collega di RSU con Alberto Cancian. Abbiamo visto le immagini e abbiamo preso anche paura, abbiamo preso perché abbiamo ottenuto veramente il peggio per il nostro collega, al quale va tutta la nostra solidarietà come lavoratori più che come sindacalisti. A condannare l'attacco e esprimere vicinanza all'autista CTV e alla sua famiglia, con l'amministrazione comunale e i vertici dell'azienda del trasporto pubblico locale, rispettivamente assessore Michele Zuine, direttore generale UEM, Giovanni Seno, anche la Filt CGL chiede siano predisposti mezzi e risorse per garantire la sicurezza personale e utenza CTV, diversamente con le premesse quali quella di venerdì scorso, piuttosto che rischiare meglio interrompere il servizio. Serve che l'azienda dia un segnale ai propri lavoratori di protezione, anche assumendo, come dire, delle posizioni forti, perché se io sono lavoratore e non sono nelle condizioni di sicurezza per svolgere il mio lavoro, io mi devo fermare. Grazie Grazie